È ufficiale Caltanissette e Gela insieme ad altri 40 comuni siciliani in zona arancione dal 9 al 19 gennaio. Il provvedimento è stato firmato nel primo pomeriggio del presidente della regione, Nello Musumeci. In zona arancione le limitazioni più che altro sono per coloro che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino. Saranno consentite tutte le attività con l'utilizzo del Super Green Bus. Sul versante della scuola i sindaci della provincia non hanno alcuna intenzione di riaprire le classi. Lo hanno anticipato in un breve comunicato a firma della conferenza dei sindaci. Si attende la relazione dell'ASP che dovrebbe fare luce sull'andamento epidemiologico e la curva di positività paese per paese. Domani pomeriggio l'ufficialità della posizione si trasformerà nella firma di un'ordinanza.